La benedizione è avvenuta proprio oggi, giorno in cui la Madonna appasse nel 1917 ai tre pastorelli di Fatima. A lei affidiamo la nostra missione qui in Vietnam, sicure di avere la materna protezione. E' anche un momento propizio per ringraziare prima di tutto il Signore per averci aperto questa nuova strada. Poi Padre Dean, che è stato il nostro angelo custode. Padre Joachim, che ci ha accolto nella sua parrocchia e ha benedetto la nostra casa religiosa. I genitori delle nostre candidate, voi siete i primi benefattori del nostro istituto, perché avete donato le vostre figlie al Signore. E tutti voi qui presenti, religiose, religiosi e tutti, per la vostra vicinanza e collaborazione. Il Signore vi benedica tutti e renda feconda la nostra missione in Vietnam, donandoci buone e sante vocazioni, pronte a diffondere il regno di Dio sulle orme della nostra venerabile madre fondatrice, Maria Elisa Martinez. A tutti un grazie di cuore. A tutti un grazie di cuore. A tutti un grazie di cuore. A tutti un grazie di cuore.